e vabbè mo me tocca distrugge a me c'è una parola c'è una parola dai oh dai su dai su vai ti scorto io sta lì ragà proteccetelo è perché cazzo non è possibile no vabbè ragà io qua lo taglio va dove la città non è possibile fate vedere un attimo è eliminato il faro benissimo dentro da quello che ho visto possono metterselo benissimo il faro e il men on war raga eh uavvio stile io lo butto giù subito posta però la mia no non c'è non me ne frega niente va guarda però raga individuaccio la voglia e dai raga difendete ah e vabbè dai oh subito e andiamo andiamo su dai oh raga me ne è male che è alleato e non nemico eh uccidendo da qua ho rischiato grosso aga ma quel robot va disattivato a priori dai raga eh scusate ma almeno provate un minimo ad andarci vicino al robot aspetta forse è meglio se mi metto a posto e bruciato per questa mappa scidemi raga qua qua ci ho rischiato troppo no vabbè poi raga porca di quella misera raga c'è poi che senso da proteggere un cazzo di robot se poi quelli non lo scortano? non ha senso c'è io sapete che c'è ma ma piglia delle ste granate oh ecco niente proprio mamma mia oh non appena distruggio sto robot ce l'avevamo da non so le palle a sto robot schifoso raga e dai oh raga punti addosso a sto robot dai raga forza 3 2 1 e fuori uso bella la vita finché e vabbè vabbè dai oh ma ce l'ho manco visto a te ok non l'avevo manco visto raga pure senso senso non ha funzionato penso debba metterlo per per quell'altro all'ah eh non è che mi funziona tanto spec 3 cioè faccio tutto da solo in pratica disattivo sto robot qua maledetta lattina poi preferirei non fare robot sitter a seconda raga sta venendo qualcuno e tanto noi qua siamo in tutti eh vabbè 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 la porca micella oh vaffanchiappa cioè questi te quello è andato dietro con ripper ma accidenti a lui oh me ne manco accorto raga boh cazzo ma ma dimmi te non giuri fire mannaccia la mia madre me ne so accorto subito qua dai raga fuoco dai fuoco ma dagli oh raga ma neanche li so caganti nemici raga se è per questo dai oh ma dietro dietro state attenti oh subito dai dai su dai robot dai aggiustati la pena cazzo muoviti che devo scortarti eh c'è poi che senso ha farci scorti c'è che senso è che che noi degli strapotenziati e spompatoidi con i mercenaroidi specializzati scortare sta lattina ambulante va ma vaffanchiappa basta ci penso sono io vaffanchiappa vaffanchiappa te e a quell'altro compare che sta orvi meno male che c'ho questa eh oh finalmente come un po' con il mio tronincello quanto pare il mio tronino naviga in acqua è sicuro ops è rotto almeno finchè poteva durare cazzo boh non so ragazzi devo usarlo o meno non volevo neanche usarlo boh sti cazzi ho voluto semplicemente olè c'è sta un'altra sta eh vabbè dai giù cazzo non è possibile dai oh dai dai ragazzi scortate sto robot e finiamola qua sta partita oh dai 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 su e dai ragà tutti vicino eh ci stanno quelli là che spavano ancora qui vabbè oh 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 specialista nuovo sembra di si cazzarola o forse no ma va vabbè ma dimmi te ma guarda dimmi te meno male che che l'ho aiutato eh c'è qualcuno vedo scappa dai ma c'è sta uno oh porca miseria ole dai su dai che sta cosa si deve raviare mo ma vaffanculo non avevo già visto per poco quell'assassino là accidenti oh qua raga colpa dai ragazzi può mozze può fare eh dai oh su porca eva ma questo proprio stava col coltello madonna cara sto qua mi sembra un assassino però periodo ok stava col gorgon forse è probabile l'idrodiatrice pesante ma quella stragella purifier ancora sta sta in giro ma canna te va morto sto sparando qualcuno vedo fuori e dai oh dai raga ma ma vabbè dai su come cazzo è possibile aga comunque dovete stare un po' le granate aga mi piace ma c'ho due pesce due quelle boh non sai granate prende sendex casa MP bah bisogna andare a sottendere le cota a non usare le granate e lì porca eva ma ci dovete andare lì o no cazzo non è possibile questa partita lui mi sa mi sa che finisce supplementare dovevamo vincere la forza la seconda ole eh amico mio che cazzo è successo sparano eh porca troia dai oh dai raga beh vabbè si non stanno facendo di tutto è mai bene è inutile raga me ce l'applico nel mango mamma mia raga a sto punto cambio modalità dai oh vediamo di struggerla subito dai fuori uno no no eh vabbè dai gang bang estremo amore cazzarola dai eh dai cazzo non è possibile sti qua ma vanno ovunque ma porca era dai ma lo sto scudo ma per sicurezza eh dai la testa qualcuno dai oh combattitela no va bene ma questi sanno il fuori no m87 no no raga no 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 ma veramente raga che modo volessi prendere quell'arma raga ma non so se prendere un meno del m87 raga sono indecisa vaju prendere o non prendere il m87 bella domanda raga da questa è il diritto raga credo me la prenderò raga lo aggiungo la lista delle armi dei miei desideri esperienza no cazzo non ci siamo lì e dai raga eh stiamo giocando a a a allontanare il robot non a sta allontanando uno attento no fanculo dai raga ma che cazzo usano lo shider mo eeeh vabbè merda ecco niente una sessione combattiva come